Deve essere fresco, deve essere artigianale, deve essere fatto tutti i giorni. Per il servizio, soprattutto per la qualità del latte e della panna, sempre costante. Poi conosco Andrea, conosco la ditta Frascheri, sono precisi, seguono il cliente dalla A alla Z. La ricetta del buon gelato, innanzitutto il latte fresco, panna fresca, tre tipi di zucchero, saccarosio, destrosio e glucosio. Un po' di latte in polvere perché ci serve per le proteine e tanta passione soprattutto. Il gusto limone basilico invece è nato da un connubio estremamente ligure. Basilico genovese DOP, limoni della nostra riviera, siamo riusciuti ad avere un successo notevole. Con questo gusto ringraziamo tutti i nostri clienti.